Riapre in tempi record la provinciale 140 la strada che collega Borso a Cimagrappa chiusa a seguito dei massi piombati sull'asfalto. 15 giorni di lavori per una spesa di 67 mila euro di cui 25 mila finanziati dalla provincia di Treviso, 6 mila dall'Unione Montana e il resto messi dal comune di Borso. Un'arteria di importanza apicale soprattutto in questi anni in cui si rende omaggio ai caduti cent'anni fa nella grande guerra. Per valorizzare Cimagrappa tutti i soldi che sono stati spesi in occasione del centenario non potevano vedere la SP 140 chiusa. Qui c'è stato un grande gioco di squadra. Certo è che vista la tipologia del territorio montano assai fragile diventa necessario un monitoraggio continuo e capillare, in una parola prevenzione. Questo è uno dei grandi temi su cui la politica io auspico intervenga presto. L'obiettivo comune che abbiamo è quello di cercare di sensibilizzare gli enti superiori per poter avere quelle risorse economiche necessarie al buon mantenimento del nostro territorio e della montagna tutta. Le problematiche purtroppo del nostro versante del Monte Grappa sono comuni nel versante vicentino e a gran parte dell'Italia. Questo è un po' un punto nero. Purtroppo sì e credo che sarà soltanto, adesso abbiamo soltanto tamponato rispetto a quello che è un problema strutturale. Dovremmo pensare a trovare delle risorse e spero che facendo sinergia con gli enti a più vario livello si riesca effettivamente a dare quelle risposte per fare in modo che tutto quanto il massiccio del Grappa abbia quella fruibilità che tutti quanti auspichiamo. Un intervento che a Borso ha visto lavorare fianco a fianco tutti i membri dell'intero Consiglio Comunale. La buona amministrazione non ha colori politici, interviene in sinergia con tutti quando c'è bisogno.